Il marchio Citroën da sempre molto attento anche al mercato e al settore dei veicoli commerciali. Grandi innovazioni in quasi cent'anni di storia, a partire dal famoso tipo H che ha innovato completamente e che quest'anno festeggia i 70 anni di nascita. Un veicolo commerciale che ha fatto veramente la storia, che ha introdotto già alcuni elementi che poi si sono visti su tutti o il resto dei veicoli commerciali. La cabina avanzata, le porte laterali scorrevoli, il pianale di carico dalla soglia bassa e piatta. Il nuovo Citroën Jumpy è l'ultimo nato nella gamma dei veicoli commerciali, una gamma ancora innovativa, ancora al passo coi tempi. Si distingue sia per le prestazioni caratteristiche di un veicolo commerciale, quindi la grande capacità di carico fino a 1.400 kg e volumi che a seconda delle lunghezze passano dai 5 metri ai 6,60 metri cubi. Con una chicca che è rappresentata dal modo work, cioè questa possibilità di allungare la capacità di carico di un altro metro e 20, entrare direttamente nella cabina per portare complessivamente la lunghezza disponibile ai 4 metri. Grazie alle tre lunghezze di cui è dotato 4,60, 4,95 e 5,30 metri è in grado di fornire risposte a qualsiasi esigenza dei clienti professionisti. Un veicolo quindi molto moderno che introduce una piattaforma nuova, la MP2 del gruppo PSA, che lo rende molto adatto e molto vicino alle caratteristiche di comportamento stradale di una vettura e questo è molto importante per chi passa molto tempo a bordo della vettura e perché introduce nuove prestazioni. Anche tutta la parte di aiuti alla guida è derivata direttamente dal comparto delle vetture del marchio Citroen, navigazione connessa al telefono, al sistema di grip control per aiutare la motricità anche sui fondi più difficili. Il motore che stiamo provando è un 1.6 Blue HD da 115 cavalli dotato di stop and start, è un motore di ultima generazione, la famiglia dei motori Blue HD si caratterizzano per le prestazioni brillanti e soprattutto per i consumi molto molto contenuti. Esistono altri livelli di potenza, si parte da un 95 cavalli, poi c'è anche la versione da 120 e anche da 180 cavalli accoppiata a un cambio automatico e a T6 di ultima generazione. Citroen Jumpy quindi è il veicolo ideale per chi lavora, per le esigenze dei professionisti perché possono trovare con il nuovo Citroen Jumpy una risposta adeguata a tutte le loro esigenze.